Va ora in onda, Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio, al microfono Natascia, alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della chiesa metropolitana di Pescara Penne. Il Ministero sbaglia i calcoli e arriva la decurtazione per i dirigenti scolastici. Quanto accade nelle regioni Lazio e Abruzzo, dove dallo scorso mese di gennaio i presidi vengono trattenuti dallo stipendio circa 200-250 euro netti al mese, che dal 23 ottobre, quando verranno accreditati gli stipendi, potrebbero diventare 500 addirittura di più. È la denuncia di diversi presidi che dicono di essersi trovati proprio in questa condizione. Nella nuova programmazione sanitaria 2016-2018 siamo chiamati ad applicare alcuni importanti punti del decreto Lorenzin, che, lo ricordiamo, è il decreto che prevede la riduzione delle spese sanitarie. Certo, non le applicheremo in maniera rigida, lo ha affermato l'assessore alla programmazione sanitaria della regione Abruzzo, Silvio Paolucci, che così è intervenuto nel Consiglio regionale straordinario proprio sulla sanità. La nuova programmazione sanitaria è molto più vasta e complessa del decreto Lorenzin, ha spiegato Paolucci, e dovrà prevedere passaggi importanti sul territorio, con l'impegno che almeno la metà delle risorse messe a disposizione per il sistema sanitario debba essere speso sul territorio. Strada provinciale ridotta a una monattiera, il sindaco di Cupello, Manuele Marco Vecchio, con una fascia tricolore, ha deciso di protestare, occupando una delle arterie più trafficate del paese, con alcuni assessori, consiglieri comunali e cittadini, ha percorso a piedi un breve tratto disastrato, dove giornalmente transitano circa un'ottantina di autobus che collegano l'entroterra a Vasto. E ha posizionato lungo i binari della stazione centrale di Pescara delle lunghe tavole di legno usate per i pontili dei cantieri e di lì, con l'intento di far deragliare o comunque creare danni a convogli in transito. Protagonista del fatto un 33enne della provincia di Chieti, con numerosi precedenti di polizia, fermato prima che potesse nuocere dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Pescara, che lo hanno denunciato per attentato alla sicurezza dei trasporti e furto aggravato. Si è svolta ieri a Pescara la riunione prefettizia per mettere a punto le azioni che serviranno a far fronte e a prevenire le emergenze legate al maltempo, sia inteso come pioggia, sia inteso come precipitazioni nevose, quindi neve. Il vice sindaco del Vecchio afferma che il Comune è pronto ad operare. Fra le azioni, l'istituzione di un albo per le associazioni di volontariato che operano nel soccorso in convenzione proprio con l'ente comune. C'è un nuovo gestore per il mattatoio cittadino di Pescara. Si tratta della Macellatori Tiatini ARL che da venerdì prenderà in carico la struttura dopo una lunga gestione temporanea da parte della SPA Attiva, la società che per il Comune di Pescara si occupa di gestione dei rifiuti. L'amministrazione Alessandrini, in una responsabile ottica di rigore e risanamento dell'ente dopo la pesante bocciatura del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della gestione dei conti pubblici ad opera della precedente amministrazione, continua nell'adempimento delle prescrizioni imposte. Ci afferma l'assessore alla qualità urbana del Comune di Pescara, Paola Marcheggiani. Nella mattinata di ieri è venuta a mancare Giovanna Mancini, docente universitaria, ex consigliera regionale, convinta sostenitrice del confronto a tutti i livelli, perché erede di un modo di vivere e interpretare la politica in nome e per conto del bene comune della propria città. Parliamo di una persona autentica, sempre attenta a ciò che accadeva a Pescara e alle dinamiche della politica di questi ultimi anni. Lo ha detto il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini. Verrà allestito dal 25 ottobre al 4 novembre il mercatino per la vendita dei fiori nell'area che si trova davanti al cimitero Cittadino di Monte Silvano. Lo ha stabilito con un'apposita delibera alla giunta comunale. In occasione della commemorazione delle fonti, spiega l'assessore al commercio Donofrio, anche quest'anno abbiamo scelto di autorizzare lo svolgimento di un mercato limitato ai fiori nell'area antistante, il cimitero. Oggi è mercoledì 14 ottobre e la Chiesa celebra la memoria di San Calisto I, Papa, e nell'Arcidiocesi di Pescara Penne si commemora l'anniversario della morte di Sua Eccellenza Monsignor Antonio Giannucci, arcivescovo emerito. Siamo con questo al meteo. Oggi su Pescara e provincia si prevedono temporale al mattino e pioggia nel resto della giornata, con possibilità di temporale nel tardo pomeriggio nelle zone interne e temperature da 19 a 23 gradi e 20 moderati. Il mare è previsto da poco mosso a mosso. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro radiogiornale. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natasha alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa metropolitana di Pescara Penne. Grazie per averci seguito e risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Grazie per averci seguito e iscriviti al nostro canale.